no eri giusto senti vieni vieni che sono qua a fronte come faccio anch'io cattiva di bestia con la roba lì comunque no perché anche ma quando parte la senti come è cattiva secondo me qualcosa gli hanno fatto comunque perché è troppo cattiva vedrai vedrai ci sono zuppi non bagnati vuoi mettere cazzo che è qua nel suo habitat cazzo sulla non partiva mai vaffanculo vado a vedere il falso indietro culo vai indietro culo o minchia no è solo questo eh è solo questo ma è solo questo possiamo passare di qua ma lì ce n'è giù un altro eh è grossa no ma senza tagliare tu vieni qua perché sennò ti ammazziamo via bravo vai no ma non è il marcio lo lasciamo anche stare passiamo da qua ma figaro marcio si capì taglia subito ma figaro ma figaro stavo cercando di schiacciare giù queste ma non riesco schiacciare giù queste questi qui sono andati tira tira via che cazzo ti do dire la motoseglete le tiro via dai dai su non rubino c'è quella del zio seve del zio seve quella del zio seve va che ti torna indietro eh non esagerai perché va che taglia eh devi schiacciare il tastino bravo non tirati via che pericoloso stacca quello la sotto un po' più però se me lo dicevi tiralo su almeno una mia batteria io ce ne entro quattro eh io lo porto sempre no io ce l'ho in macchina ma non ci ho pensato a però la batteria è limitata la miglia no io ne ho tre così e una doppia grossa va piano eh vai piano che c'è quello a fare lì secondo me ci diamo c'è quello dopo da tagliare eh non è questo sì ma se ci possiamo andare a parte cazzo ce ne frega di tagliarlo cioè tirami fuori il tuo macete scuso è a sicurezza? è legato e già mi taglio così guardi se lo lascio scacciato sì infatti stavo ben guardando che ho detto ma questi poi vengono via un cazzo ma scudici non è appena nessuno ma scudici ma scudici ma è messo un mese qua bra butta la giunta lì ma che è un mese ma ne ha anche questi guarda sono già qua pronti eh perché è un po' grosso ma se tagliassimo quello lì ma sì ma quello lì lo tagli in un attimo in marcio misterio per la stessa guarda guarda eccro e quello lì va giù ma eh sì lo devi tagliare lì che è in marcio va giù subito anche con quello del vito figaro doveva girarci in giro ma guarda che lo taglia come il burro dai taglia qua Marco taglia via questi lo taglia come il burro non dite cose compromettenti bravo lascia lo tagli con questo lo tagli ma scherzo non dovete vedere se vedi vito vai piano eh e fammi andare via me prima non mi ha messo il secondo vai vito aspetta meno di qua di lì ci passiamo poi e c'è da tagliare quello lì stai attento quando lui c'è in mano quel coso lì perché va che basta dopo da qua andiamo perché da qua andiamo anche questa fine questa è andata e qua sotto ci passiamo normalmente come sempre è andata e qua 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 fermo fermo ecco perché fermo lì si è smollato questo ecco cosa c'aveva ho che non perde e qua e qua e qua e qua e qua e qua No, prima ci andava la rondella, no, si qua ci va la rondella, no, giuzza così, stessa la mia, così, senti, metti a me, metti, anche la roba lì, vai, metta via, aiutami qua che lui non è capace, no, si è smollato il dallo, c'era sotto una ranellina qua, qua tuve che lui l'aveva già perduta, cazzo, l'aveva già, lui è fa svelta, no, secondo me è sotto qua, no, si, no, si, no, si,